Mi capita spesso di sentire frasi come «Lo script che ho fatto funziona, ma è davvero lento!» Oppure con tono più impanicato «Fino a ieri funzionava tutto, ora dà sempre errore di superamento del tempo di esecuzione!» Nella quasi totalità dei casi, il problema non è di Google Apps Script, ma del modo con cui viene utilizzato. Le prestazioni sono importanti, e con alcune accortezze possono essere migliorate. Voglio dirvene una che da sola potrà rendere 100 volte più veloce il tempo di esecuzione dei tuoi script. Te la racconto in questo video. Ciao, sono Michele e in questo video voglio parlarti di un approccio da utilizzare in Google Apps Script per ottenere fin da subito script veloci e performanti. Faccio una breve premessa prendendo come riferimento i foli di Google. A differenza di un comune file Excel, uno spreadsheet non esiste fisicamente sul nostro computer, ma esso e i suoi dati sono memorizzati da qualche parte su un server di Google e vengono restituiti sotto forma di HTML per essere interpretati e rappresentati dal nostro browser. Pertanto, ogni volta che apportiamo una modifica, ad esempio ogni volta che scriviamo qualcosa all'interno di una cella, che sia fatto manualmente o tramite Google Apps Script, inizia un viaggio di byte che può impiegare più o meno tempo in base a diverse variabili in gioco. Come ad esempio la distanza del nostro computer del server di Google, oppure il carico che quest'ultimo sta sopportando per via delle migliaia di richieste che riceve in quel momento da parte di altri utilizzatori del servizio sparsi per il mondo. Per questo motivo la soluzione più efficace, per quanto banale, è limitare il numero delle richieste. Ma cosa significa nello specifico? Possiamo semplificare che lo stesso codice può essere scritto in tre modi, benino, bene o molto bene. Su questa base ho realizzato un esperimento dove metto a confronto il tempo di esecuzione di uno script che scrive all'interno di 5.000 celle di uno spreadsheet, 500 righe per 10 colonne, con tre modalità di scrittura diverse. Una cella alla volta, una riga alla volta, tutte le celle in una volta sola. Scrivere i dati, una cella alla volta, nel caso dell'esempio, si traduce in 5.000 chiamate al servizio remoto. Questo perché viene recuperato da Google Sheet riferimento ad una cella e viene inserito il suo valore. Con una seconda chiamata viene recuperato il riferimento alla seconda cella ed inserito il nuovo valore. E così via, fino alla fine della tabella. Nell'inserire valori, una riga alla volta, non avrò più una variabile con un singolo valore al suo interno, bensì array monodimensionali con tanti valori quanti sono i numeri delle celle che compongono la riga dove andare a scrivere. In questo caso, le richieste al servizio diventano 500, un bel risparmio di risorse rispetto all'esempio precedente. Il vero salto di qualità, però, lo abbiamo nel terzo caso, ovvero scrivere tutti i dati in una sola volta con un array bidimensionale. A lato pratico, si tratta di un array contenitore con all'interno tutte le array monodimensionali del metodo precedente, ovvero tutte le righe separate da birgola. Non è difficile immaginare che l'inserimento dei dati tutto in una sola volta sia quello che offre prestazioni migliori, ma la cosa impressionante è che durante i miei test ho osservato un miglioramento della velocità dello script di 100 volte tra il primo e il terzo metodo, passando da circa 5 secondi e mezzo con il metodo inserimento a singola cella ad un immediato 54 millisecondi con il metodo ottimizzato. Ci possono essere delle oscillazioni in questi numeri in base alle variabili in gioco che abbiamo visto a inizio video. Il miglioramento delle performance è comunque in ogni caso percepibile ad occhio nudo. Con questo, non voglio dire che il metodo ottimizzato debba essere quello da utilizzare sempre in assoluto. Dipende dalle esigenze. Ad esempio, se uno script deve dare dei risultati al video all'utente, dovrà cercare di dargli una risposta nel più breve tempo possibile. Se invece ho delle routine giornaliere che eseguono dei dati in background, posso anche fare a meno di stare attento a questo tipo di accortezze. In ogni caso, scrivere fin da subito codici con questo tipo di approccio ti salvaguarderà d'eventuali necessità di manutenzioni future relative ai miglioramenti di performance. Questa è solo una delle accortezze per migliorare le prestazioni dei tuoi script. Puoi approfondirla insieme ad altri suggerimenti all'interno del mio libro Punta in alto con Google Apps Script, disponibile su Amazon al link che trovi in descrizione. Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto questo video. e se vuoi propormi degli argomenti che ritieni interessanti e che vuoi che io tratti in un tutorial. Come sempre spero di esserti stato utile. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!